Sono 3,4 milioni gli elettori chiamati alle urne per i ballottaggi di 105 comuni con oltre 15.000 abitanti. Il dato dell'affluenza registrato alle ore 12 è dell'11,98%. Al voto Bari, Firenze, le sfide più attese, ma anche Perugia, Potenza e Campobasso tra i capoluoghi di regione. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Il centrosinistra al primo turno ha vinto 10 capoluoghi, 5 successi del centrodestra. In quello pugliese il leghista Fabio Romito per il centrodestra proverà a rimontare lo svantaggio nei confronti di Vito Leccesa e centrosinistra, appoggiato dal terzo arrivato Michele Laforgia, candidato dei 5 Stelle. Al primo turno Leccesa ha infatti staccato Romito di una ventina di punti. A Firenze la corsa è tra l'assessore uscente della giunta Nardella, Sara Funaro, centrosinistra, e l'ex direttore degli uffizi, Eike Schmidt, centrodestra, che deve recuperare i 10 punti di svantaggio del primo turno. Funaro potrà contare anche sull'appoggio del 5 Stelle Masi, che ha dato indicazione di voto per la candidata Dem. Nella città toscana il centrosinistra ha sempre vinto da quando esiste l'elezione diretta del sindaco. Sfida tutta il femminile a Perugia, tra Margherita Scoccia, centrodestra, e Vittoria Ferdinandi, espressione del campo largo. Tra le due la distanza al primo turno è stata di 598 voti a favore di Ferdinandi. Attenzione anche al voto a Lecce. Adriana Polibortone, candidata del centrodestra e già sindaco della città, si è fermata al primo turno al 49,95%. Contro di lei Carlo Salvemini, centrosinistra, che ha ottenuto il 46,73% dei voti.